Mi ricordo nel 2006 abbiamo fatto un Euro Cup con la Francia di Cantonà, con un otto nazionale e fu un evento bellissimo alla Rotonda di Alza. In questo territorio di Varcatura, il secondo anno, un'ottima location, sicuramente ci saranno e ci sono i grandi campioni internazionali, il massimo del beach soccer che può esprimere in questo momento il nostro campionato. Un campionato che è portato sempre da tutti gli addetti ai lavori del beach soccer mondiale come il miglior campionato organizzato al mondo, sia per la qualità che per i giocatori. Ritorna in campagna per il secondo anno consecutivo il campionato di beach soccer della Lega Nazionale di Lettanti, dal 2 al 4 agosto, con la tappa nell'arena da 850 posti a Lido Varcadoro di Giuliano. E' la terza e ultima giornata della serie che assegnerà lo scudetto, per la quale si prevede anche una copertura televisiva su Sky, in programma anche la finale per il titolo femminile. E' molto importante perché finalmente ritrovare a Domizia una sua dignità, utilizzarlo poi per un'importante manifestazione sportiva e metterlo alla pari di altri lidi straordinari come sono l'Ignano Sabbadoro, il Sabbia d'Oro o altri luoghi del nostro paese è importante. Quindi si dà una dignità a un luogo importante, lo si fa attraverso lo sport, un evento così bello, così significativo come appunto il calcio di spiaggia. La checca come si dice.